Franco Alfieri, capo staff del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Capaccio Pestum. La notizia era nell'aria da qualche settimana, scrive l'ex sindaco di Agropoli. Da parte mia c'è stata però la necessità di riflettere con attenzione e serenità sulla proposta di impegno diretto che mi è stata avanzata da tanti amici. So bene quanto i cittadini di Capaccio Pestum desiderino una nuova stagione di cambiamento e di sviluppo. A questo progetto sono oggi pronto a contribuire con la capacità amministrativa che tutti senza distinguo mi riconoscono. Ho ricoperto diversi ruoli istituzionali ma soprattutto in tempi di difficoltà economica il sindaco diviene punto di riferimento imprescindibile per tante persone, tante famiglie. Deve perciò essere in grado di svolgere i propri compiti con determinazione ed efficienza. Quella di sindaco capace è un'etichetta che molti tendono ad autoattribuirsi anche di fronte ad esperienze non proprio esaltanti. Nel mio caso invece possono parlare i fatti frutto di un percorso fatto di competenza, concretezza e vicinanza ai cittadini. Oggi mi si chiede di impegnarmi in un nuovo progetto amministrativo in un comune che è il cuore storico, identitario e produttivo di una terra che conosco alla perfezione. Davanti a me vedo un territorio comunale ricco di persone che lavorano duramente, fervido di energie imprenditoriali caratterizzato dalla straordinaria ricchezza di risorse storiche e culturali. Toccherà a noi tutti trasformare questo patrimonio in quell'esperienza amministrativa d'eccellenza che la comunità di Capaccio Pestum attende da decenni. E state pur certi che uniti ce la faremo. Guiderò una compagine ampia, composta esclusivamente da liste civiche che vedranno in campo tanti giovani, tanti imprenditori, tanti esponenti delle associazioni. Insieme presenteremo alla comunità un programma elettorale chiaro e snello, con dieci punti da realizzare in un periodo di tempo certo e breve. Per i prossimi giorni la mia priorità sarà però quella di moltiplicare gli appuntamenti sul territorio. Le richieste di incontro sono già numerose. Posso però assicurarvi che cercherò di rispondere positivamente ad ogni invito. Ci aspetta un grande lavoro ed è perciò necessario che impariamo a conoscerci sempre meglio. Infine, conclude Alfieri nella sua nota su Facebook, non mi resta che ribadire che sto per lanciarmi in questa nuova avventura elettorale, cheppure non avendo in nessun modo cercato, con tutto l'entusiasmo e con tutta la determinazione di cui sono capace, se vorrete concedermi la vostra fiducia per i prossimi cinque anni sarò al servizio della comunità di Capaccio Pestum, lavorando con passione per dare forza alle vostre energie.